Quel che resta è un groviglio di lamiere e cenere, simbolo della violenza e dell'arroganza di chi ha deciso di colpire al buio col fuoco, distruggendo due mezzi della raccolta dei rifiuti. A poco meno di un mese dall'intimidazione ai danni del sindaco di Gioiosa Ionica, Salvatore Fuda, contro le cui auto sono stati esplosi diversi colpi di pistola, l'amministrazione comunale a Gioiosa Ionica è di nuovo sotto attacco. A raccontarlo è il vice sindaco Maurizio Zavaglia, tra i primi a portarsi località Merulli presso l'ex carcere diventato centro logistico della raccolta rifiuti. Pochi minuti prima delle ore 19 i due mezzi sono stati cosparsi di liquido infiammabile e dati alle fiamme. Una scena ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza dell'aria che hanno inquadrato una persona presumibilmente di età compresa tra i 20 e i 30 anni che dopo aver scavalcato la recensione ha incendiato i mezzi di leguandosi poi nelle campagne. Il video è ora al vaglio dei carabinieri di Gioiosa Ionica e della compagnia di Roccella Ionica. Ad allertare le forze dell'ordine un dipendente comunale che ha visto le fiamme levarsi in aria non riusciranno a fermare la primavera gioiosana, non riusciranno a bloccare l'azione dell'amministrazione Fuda tesa alla crescita civile, sociale, culturale ed economica della comunità, ha commentato a chiare lettere Zavaglia, vice sindaco della città. Secondo il vice sindaco il fatto non è da ricondurre direttamente alla gestione dei rifiuti che sin dall'insediamento di Fuda è stata internalizzata con la riprogrammazione della raccolta differenziata. Qui c'è un filo conduttore, l'attacco alla democrazia, commenta ricollegando il gesto alla prima intimidazione. Nonostante questo l'amministrazione comunale si dice pronta a reagire in modo energico.